Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio parlare dell'azienda CERZ che in occasione della festa della mamma abbiamo organizzato un super paccone, quindi un prodotto adatto appunto per la festa della mamma che adesso vi lascerò pure il codice sconto dove potete creare di tutto, vi lascio pure il link dove potete vedere una sezione proprio dedicata alla festa della mamma. Adesso vi faccio vedere che cosa mi ha inviato, qui ho stampato anche alcune foto e qui c'è il regalo che ho fatto per mia madre. Allora ecco qua, è questa cornice in oro con scritto auguri mamma e qui troviamo la foto di me, mio fratello e mia madre con la scritta festa della mamma che comunque ho inserito all'interno di questa cornice, è davvero bellissima, infatti ragazzi veramente potete scegliere sia di colore oro o nero. Qui adesso vi faccio vedere che cosa ho scelto pure da stampare, qui abbiamo delle foto e qui sono delle mini postcard da attaccare al frigo perché sono con le calamite. Ecco qua le foto che ho scelto per poterle attaccare sul frigo, sul microonde che sono appunto con la calamita e quindi sono bellissime anche da poter regalare. Le foto di Astor, veramente Cerzia ha delle cose carinissime dove comunque potete trovare sul sito che vi lascio qui sotto tantissime idee di regalo. Soprattutto un'occasione della festa della mamma, questa cornice è adatta ma potete trovare anche altro. E qui vi faccio vedere le altre foto. Ecco qui le foto che ho stampato, davvero carinissime. E quindi ragazzi con CERZ potete organizzare qualsiasi foto, qualsiasi stampa, ma soprattutto un'occasione della festa della mamma potete realizzare dei regali super. Grazie ancora a CERZ.